Ecco, io approfitto di voi tutti per lanciare un invito a due ragazzini dell'età di circa 15-16 anni nei cui confronti il presunto autore del Fatto di Sangue avrebbe, così come da lui dichiarato, prima di scegliere, individuare, poi scegliere per caso come vittima la signora Verzeni, avrebbe puntato il coltello minacciandoli. Ragazzini che erano presenti sulla scena del crimine vicino a dove poi si è commesso il terribile fatto e che ad oggi non si sono presentati. Quindi l'invito a presentarsi in una caserma delle forze dell'ordine, dell'arma dei carabinieri in particolare, al comando provinciale o anche alla stazione dei carabinieri, per riferire se erano presenti, se effettivamente si è verificata questa minaccia, insomma perché forniscano un riscontro o meno alle dichiarazioni che noi abbiamo acquisito.